Salve, vorrei chiedere al Sinnoko quando utilizzando i fondi normali che sono a disposizione comincia a mettere su squadre che possano gestire la manutenzione ordinaria della città, giardini, buche e quanto altro. La crisi economica ci porta ad avere pochi soldi e le casse del Comune di Napoli da quando sono Sinnoko sono sempre vuote, è chiaro che man mano che migliora la situazione economica le nostre priorità sono le buche, le strade, l'edilizia scolastica, i parchi e i giardini, però devo dire che già dei segnali seppur non ancora soddisfacenti ma positivi si vedono in città perché è cominciata la manutenzione delle strade, anche diverse strade si stanno rifacendo completamente, anche alcune che non si facevano da una vita, penso a Via Manzoni, Scesa Coroglio, Santa Maria Cubito, Corso Secondigliano e altre che si stanno facendo in questi giorni, quindi noi siamo molto impegnati sul pezzo, se vedete qualche problema non è per assenza di volontà ma è proprio perché non ci stanno i soldi in cassa. Volevo chiedere al sindaco, si era parlato un po' di tempo fa di un progetto di una casa della musica nel quartiere di Ponticelli a Viargine, volevo chiedere a che punto è il progetto, dato che non si è saputo più niente. Questo è un progetto che abbiamo ereditato dal passato e che dipende molto dalla volontà della municipalità, quindi da questo punto di vista passi in avanti non ne sono stati fatti e non abbiamo avuto indicazioni concrete che portino in quella direzione, quindi noi siamo impegnati in quell'area a portare avanti i progetti del Comune di Napoli, penso al progetto sul Pala Vesuvio, penso ai parchi, penso alle varie iniziative che sono state fatte su Ponticelli e altre che se ne faranno, ma noi siamo comunque molto aperti e disponibili a portare avanti anche questo progetto. Io la domanda che gli farei a De Magistri è una sola, lui sapeva che le casse del Comune erano vuote e questo l'ha detto in tutti i suoi comizi prima dell'elezione, perché sei candidato? Perché hai l'uso tanta gente? A parte, non sapevo che le casse del Comune erano così disastrate, sapevo che il Comune di Napoli era in condizioni difficili e anzi questo se vogliamo è uno stimolo a candidarsi perché uno deve avere il coraggio di affrontare le sfide difficili che ci hanno lasciato un disastro complessivo, lo si intuiva in campagna elettorale, basta vedere le montagne di rifiuti, ma che ci trovassimo di fronte a un'assenza totale di soldi, a bilanci non trasparenti, non lo sapevamo, tant'è vero che noi come amministrazione abbiamo dovuto fare un'operazione verità mostrando con chiarezza e trasparenza i bilanci e poi credo, voglio dire che da questo punto di vista è importante che ci sia un impegno a cambiare nonostante l'assenza di risorse.